E' iniziato non senza scontri lo sgombero dei coloni abusivi nell'area di Neti Vavot, a sud di Betlemme. La Corte Suprema Israeliana ha infatti stabilito che gli insediamenti, costruiti 17 anni fa su terre private palestinesi, sono illegali e devono essere abbattuti. La Polizia ha organizzato lo sgombero di 15 abitazioni in ottemperanza alla sentenza della Corte. In questo momento ci sono centinaia di agenti impegnati nell'evacuazione. L'ultima casa interessata sarà quella. Alle mie spalle siamo pronti a reagire alle violenze. afferma il portavoce della Polizia, Michi Rosenfeld. Il governo di Benjamin Netanyahu, che al suo interno conta alcuni degli oltre 600.000 coloni che vivono in Cisgiordania, Gerusalemme Est, ha autorizzato la costruzione di 350 abitazioni a Neti Vavot. Dopo la bocciatura dei giudici ha promesso indennizi alle persone coinvolte.